Le problematiche legate all'accoglienza dei rifugiati nel territorio del comune di Ariano Irpino sono state al centro di un incontro in prefettura. L'amministrazione comunale ha posto il problema del numero massimo di richiedenti asilo che possono essere ospitati ad Ariano Irpino. In tal senso la prefettura di Avellino ha colto la richiesta del comune di non superare la quota del 3 per 1000 della popolazione residente da accogliere ad Ariano, così come indicato dall'Anci. In questa fase di emergenza è stata data disponibilità a raggiungere il tetto del 5 per cento dei rifugiati presenti attualmente in Irpinia, che sono circa 2000. Si auspica allo stesso tempo un'equa ripartizione su tutto il territorio provinciale e una collaborazione complessiva da parte degli amministratori. Il sindaco Gambacorta e rappresentanti dell'amministrazione comunale inoltre hanno ribadito ai presenti che gli uffici in linea con l'azione finora portata avanti continueranno ad essere intransigenti sul rispetto delle regole urbanistiche e di sicurezza nonché sanitarie. Auspichiamo, si legge in una nota, un maggiore e più diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato, che sicuramente possono fornire un supporto prezioso nell'assistenza, a cominciare dai percorsi di istruzione, di mediazione ed educazione linguistico-culturale, dichiara la consigliera comunale e presidente della Commissione Consigliare Affari Sociali e Sviluppo Economico, Patrizia Savino.